Visto le vicende che si sono susseguite in questi giorni, ovviamente sono molto dispiaciuta per la città di Catania ciò che è avvenuto, poiché ovviamente credo che il sindaco Pogliese avrà un modo di difendersi dalle accuse che gli sono state mosse, ma così come ho dichiarato in questi giorni insieme anche al segretario siciliano Anthony Barbagallo e al segretario provinciale Angelo Villari del Partito Democratico, noi già questa cosa l'avevamo annunciato in campagna elettorale nel 2018, poiché ovviamente ha messo a rischio la città perché attualmente la legge Severino a questa è e bisogna ovviamente rispettare quello che esiste. Il discorso della legge è anche vero che noi come Partito Democratico siamo garantisti e credo che ogni legge vada modificata secondo poi le giuste procedimenti, quindi si ha il tempo di farlo, ma attualmente la situazione è così, quindi è sbagliato portare la città di Catania a questo tiro e molla, quindi non fa bene alla città, non fa bene a tutto ciò che è necessario per noi, non c'è stato un tipo di investimento sicuro, non si è parlato di programmazione, di progetto, è una città che si è spenta e credo che questo non ce lo meritiamo. Io ho ribadito che per la città era giusto che lui si dimettesse e non aspettare altri 14 mesi così, con questa cosa, si faccia chiarezza, è giusto che possa lui difendersi nei giusti ambienti, nelle giuste aule, ma che non esponga la città a questo. Grazie. 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 Grazie.